Musica Buonasera, bentrovati al nostro appuntamento dedicato al benessere a 360 gradi attraverso i rimedi naturali e attraverso soprattutto l'usa Redberry. Qui con noi come sempre Gian Paolo Tocco dalle Onde, buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera. Lei, lo ricordiamo sempre, è tecnico erborista, presidente e fondatore di Erbe Medicali. Parliamo dunque ormai da tempo di questo Usa Redberry, le persone che ci seguono ogni sera appunto hanno imparato a conoscerlo. Questa sera vorrei invece puntualizzare con lei quali sono proprio le funzioni dell'usa Redberry, che lo ricordiamo è questo mirtillo rosso palustre selvaggio che cresce nel nord del Canada. Giusto, noi promuoviamo questo prodotto, lo distribuiamo da 25 anni, non è una novità. E in 25 anni abbiamo raccontato di questo frutto, spero senza stancare le persone perché vedo che ci seguono e vedo che i clienti li abbiamo consolidati e mantenuti, in questo emittente siamo da circa un anno, abbiamo conquistato clientela che non ci ha abbandonato. E quindi loro sono la testimonianza vivente dell'efficacia di un prodotto. Un cliente che prende un prodotto, lo assume, si trova bene, lo ricompera e ti manifesta la sua soddisfazione, ecco, questa è la valenza scientifica cui noi diamo. Poi la scienza ha confermato. Voi avete ottenuto anche, tra l'altro, un importante riconoscimento internazionale. Sì, importante riconoscimento per come siamo riusciti a spostare tutti i principi attivi del frutto fresco in una compressa. Perché il problema grosso è che la disponibilità di questo frutto, a parte che far arrivare dal Canada un cestino di cranberry selvatico ha un costo, ma al di là di questo ho un mese, un mese e mezzo di disponibilità. Io ho bisogno di questo frutto per tutto l'anno, perché è un potente antiossidante. Allora, il premio è l'essere riusciti a portare a disposizione del consumatore il frutto non sotto forma di integratore, ma di preparato alimentare, quindi è come se la gente si stesse mangiando un etto di questo frutto selvatico selvatico in una compressa. In ogni compressa c'è un etto di questo frutto selvatico che ha compressa, che ha all'interno la quasi totalità delle proprietà organellettiche e dei principi attivi di questa bacca. Ecco, non contiene solo mirtillo, lo dobbiamo precisare appunto per correttezza, diciamo che cosa contiene. E' vero che tutte le sostanze appunto contenute in questa compressa non nuociono comunque la nostra salute, anzi? No. Allora, è verissimo. Allora, è un grammo la compressa? L'abbiamo detto sempre? Diciamolo sempre. Di questo grammo il 20%, cioè 200 mg, sono vaccini un macrocarpon, cioè questo cranberry. selvatico. Quindi io preferisco il mio 20% di principio attivo di un frutto ricchissimo e di altissima qualità che avere una compressa che ne contiene il 90% di un frutto dal quale non sono riuscito a portare di qua niente. Quindi è la qualità che contraddistingue il nostro prodotto rispetto agli altri. Certo, perché oltretutto dobbiamo ricordarlo che questo mirtillo rosso palustre selvaggio del nord del Canada cresce in un'area assolutamente incontaminata. Assolutamente incontaminata, non ci sono insediamenti produttivi, non ci sono aeroporti, non c'è autostrada, non ci sono aziende, non c'è niente. L'acqua che viene utilizzata per la raccolta è acqua di disgelo, è un paradiso terrestre in cui il clima, il microclima, l'ambiente, l'atmosfera, l'acqua, la terra sono assolutamente incontaminate. Si figuri che cosa contiene questo mirtillo in vitamine, in minerali, ma soprattutto in antiossidanti in altissima quantità, concentrazione, qualità e varietà, che è una cosa importantissima. Ecco, questa sera con lei vorrei concentrarmi appunto su quelle che sono le funzioni proprie dell'usa Redberry. Che cosa avviene quando si assume appunto questa compressa per un mese circa? Allora, il nostro Usa Redberry, che è il prodotto derivato dal frutto, che si chiama cranberry, è uno dei due alimenti fermatempo che sono le colonne, che sono la base della nostra azienda. Noi facevamo 20 e passa prodotti, 25 prodotti. Con questi due alimenti noi abbiamo eliminato il 90% della nostra vecchia produzione. Perché? Perché questi due alimenti fermatempo sono il cranberry e l'altro di cui parleremo dopo. Il cranberry è un potentissimo antiossidante, quindi ripolisce tutte le cellule dell'organismo, la membrana di tutte le cellule del nostro organismo. Quindi non lavora in maniera specifica sul fegato, sul rene, sulle altre ghiandole, sui tessuti, sui muscoli, sulle articolazioni. No, no. Lavora sulle cellule cerebrali, perché gli antiossidanti del cranberry riescono ad attraversare questa barriera ematoencefalica perché l'organismo lo riconosce come una sostanza amica, non è chimica. Quindi riesce a ripulire tutte le cellule del mio organismo risultando un ringiovanente. Quindi rallenta l'azione devastante del tempo sulle cellule e sull'organismo, invecchiandole, togliendo funzionalità agli organi e a tutto il nostro sistema, anche quello endocrino. Quindi ripulisce le cellule, facendo questo disintossica l'organismo, depura l'organismo, drena i liquidi in eccesso, ringiovanisce le pareti interne delle arterie e delle vene, ridà elasticità alle vene, consentendo alle vene di rimandare il sangue verso il cuore e verso i polmoni per essere ripulito, ossigenato e tornare ripulito portando alimento e ossigeno. Quindi è un ringiovanente cardiovascolare, grossissimo aiuto di prevenzione. È un fluidificante del sangue. Quindi lo si utilizza anche come prevenzione nell'ischemia e nell'ictus e nell'infarto. Non è una terapia, non è un farmaco, non è una prescrizione medica, è una protezione che la natura ci regala senza controindicazioni e senza effetti collaterali. Quindi ho ripulito il mio organismo, ho ringiovanito il cuore, le arterie, il fegato, ho velocizzato il rinnovamento cellulare, quindi ridando immediata energia al mio organismo, ho compiuto una grossissima prevenzione contro quelle patologie che si presentano proprio per l'invecchiamento cellulare e per l'ossidazione della membrana cellulare ed ha una fortissima azione di antiaderenza batterica, gastrointestinale e urogenitale. Sembra che abbia una forte azione contro l'elicobacter pylori, che è il responsabile dell'ulcera, ma soprattutto non consente nelle cistiti la recidiva, cioè non consente ai batteri che determinano la cistite di aggrapparsi alle pareti ed emettere su famiglie e diventare patogeno. Pensi, un frutto trasformato in una compressa. E soprattutto è un potente antinfiammatorio, lo sappiamo ormai, ce l'ha insegnato la scienza medica, che la gran parte delle patologie nascono appunto da un'infiammazione cronica. Esatto, esatto. Allora lui è un potentissimo antiossidante e ha una buona azione antinfiammatoria. Buona, quando però si innesca un processo infiammatorio, e questo può accadere in qualsiasi momento, per l'alimentazione, per ciò che respiriamo, per il fumo, per i dispiaceri, per ciò che beviamo, per mille motivi, per un trauma, si può innescare uno stato infiammatorio pericolosissimo, perché anche se all'origine non si manifesta, non ce ne accorgiamo, se non per quei piccoli malesseri, ma possono essere mille cose, no? Ma se un processo infiammatorio cronicizza o evolve, può diventare anche una grave malattia, la medicina ce lo dice. E qua si interviene, chiaramente, andando dal medico. Assolutamente, ma prima di andare dal medico, prima che sia esplosa la bomba, dobbiamo fare qualcosa, prevenendo con il cranberry, e poi abbinandolo alla seconda colonna portante della nostra salute e della nostra azienda, che è un altro alimento. Che è un altro alimento, che è il curcumiele, ovvero questa curcumina, questa sostanza che ha notevoli benefici sul nostro organismo e che ormai molti studi medico-scientifici l'hanno dimostrato, per esempio viene utilizzata anche in campo oncologico. Ci sono 20.000 studi scientifici sulla curcumina, poi ce ne sono 100.000 sparate che sono da evitare, perché entra in internet, internet è informazione, disinformazione e controinformazione, e cattive informazioni, c'è entro tutto. In internet chiunque arriva e si sente il luminare. Se si va a fare una ricerca sugli studi scientifici, ne abbiamo circa 20.000 sulla curcumina. Oggi viene utilizzata da qualche bravo medico preparato che conosce le proprietà della curcumina e la curcumina entra a far parte di quelle terapie integrate che insieme con le terapie mediche ufficiali forma questa completezza che deriva dalla medicina tradizionale che non ha bisogno di grande sperimentazione. perché per cent'anni ha dimostrato di essere efficace e oggi con i medici bravi e umili, che sono i più bravi, sono i più disponibili, i più mediocri sono i più irraggiungibili, quelli che per parlargli devi correre dietro, non ti guardano, sono i mediocri. Quelli elevatissimi sono quelli che sono disponibili, aperti, che, avendo giurato a Ippocrate per il benessere del paziente, sono disponibili a qualsiasi sperimentazione, a qualsiasi novità, pur di portare beneficio al paziente. La curcumina è una cosa strepitosa, è un potentissimo antinfiammatorio e antidegenerativo. Dopo i 40 anni l'uomo non può farne a meno, perché noi siamo predisposti, perché noi dopo i 40 anni cominciamo ad avere il rischio di qualche problematica, per esempio alla prostata, dall'ipertrofia alle malattie più gravi. La curcumina ha dimostrato di essere un potentissimo antitumorale, ma non è un farmaco, non lo considerate, non la dovete considerare una terapia, la terapia la fanno i medici o i medici erboristi. Io sono tecnico erborista, il mio lavoro è dare alla comunità scientifica il miglior prodotto possibile. Il mio lavoro e la mia professione è riuscire ad ottenere da queste piante il meglio e dare un prodotto di altissima qualità al pubblico e al medico. Cominci ad utilizzarlo il pubblico per evitare di vedere il medico, cioè i medici meno li vediamo, meglio stiamo, ma quando c'è qualcosa di grave si va dal medico. Ecco, il nostro lavoro è evitare di arrivare a qualcosa di grave. lo si può fare con i due alimenti ferma a tempo che sono le colonne portanti della salute, l'azione antiossidante e l'azione antinfiammatoria. Il curcumiele poi ha anche degli effetti benefici, per esempio nei casi di depressione. Essendo un antidegenerativo, guardi, se prendiamo pubblicazioni scientifiche sulla curcumina uno dice vabbè, Redberry curcumina non abbiamo più bisogno di farmaci, non abbiamo più bisogno dei medici, non abbiamo... Non è così. Ma l'utilizzo della curcumina riduce veramente di tanto i nostri rischi. Noi facevamo più di 20-25 prodotti. Con questi due alimenti noi abbiamo smesso la produzione di prodotti che erano di altissima qualità. Disintossicanti non servono più, depurativi non servono più, disintossicanti del fegato, il cardomariano, non lo facciamo più, non serve più. Drenanti non li facciamo più. Gli antidolorifici facciamo solo un antidolorifico specifico perché l'antinfiammatorio c'è già. Una serie di antiossidanti di Omega 3 non li facciamo più. Guardi, sono le due, veramente, le due colonne portanti alle quali oggi la medicina ufficiale sta guardando con grandissimo rispetto. Ecco, per quanto riguarda il mirtillo rosso palustre selvaggio del nord del Canada, lo diciamo sempre ma lo ricordiamo anche questa sera che è un mirtillo particolare, non è quello che si trova poi sugli scaffali dei supermercati o comunque in altri negozi ma addirittura appunto è selvaggio, voi avete preferito mantenerlo tale quindi nessun tipo di coltivazione intensiva tant'è che questo vi limita la distribuzione, giusto? Tantissimo, noi non siamo nelle farmacie, non siamo nei supermercati, non siamo nelle erboristerie, noi produciamo una quantità che la natura decide, non siamo noi, noi non siamo quelli che siccome abbiamo un milione di richieste dobbiamo fare un milione di confezioni, noi riusciamo a fare X confezioni e variano di anno in anno perché noi non coltiviamo i terreni, noi lavoriamo un mese per la raccolta e la trasformazione, basta, la natura, il terreno decide di darci quella quantità, noi quella utilizziamo e non l'abbiamo mai diluita diluita con altre porcherie o altre sostanze o altri mirtilli per quanto buoni perché saremo andati a tradire la fiducia di un cliente che ci dice mi trovo bene con user e berry da 20 anni, non me lo puoi cambiare perché tu devi cambiare macchina o comprarti il mobilino nuovo o l'orologio, quindi non mi devi tradire, noi non li abbiamo traditi e non li tradiamo da 25 anni e loro tengono in piedi la mia azienda da 25 anni, tutti i giorni riceviamo telefonate, tutti i giorni. Però ci sono dei periodi in cui il prodotto non è disponibile. Ma i miei clienti ci perdonano e lo hanno capito, c'è il periodo in cui noi non siamo riusciti ad avere il nostro quantitativo del Canada, non siamo riusciti a trasformarlo, a gennaio credo siano rimasti 20 giorni senza prodotto, a fine gennaio noi abbiamo spedito qualche migliaio di pacchettini ai nostri clienti che hanno aspettato. Non se la sogno nemmeno di dirci dammene un altro sostitutivo, lo aspetto, lo aspetto. Non è colpa nostra, non è incapacità produttiva, abbiamo deciso lo stesso con la curcumina. Noi abbiamo questa curcumina con queste proprietà tra le 7 e le 10 volte più biodisponibili di qualsiasi altra curcumina non posso tradire il pubblico perché mi manca quel mese il prodotto e gli do qualsiasi le altre cose le prendete dovunque. Però ecco anche la curcumina ormai si trova ovunque perché utilizzare il curcumiele e non le altre che magari sono anche più facilmente rintracciabili, trovabili insomma. Sì, difatti è più facile rintracciare un pezzo di vetro che un diamante. Non serve forse neanche la slide non scomodiamo nemmeno la regia. Nel mondo la richiesta di curcumina sta diventando fortissima. Noi siamo l'Italia è quella che veramente dorme. Il resto del mondo se lei guarda dal 2012 c'è un picco di richiesta di curcumina e di ricerca scientifica sulla curcumina eccolo lì la vede quella lineetta blu quello è l'andamento nel mondo dell'utilizzo e della sperimentazione sulla curcumina guardi dal 2012 cosa è successo perché ogni giorno la curcumina ci svela proprietà straordinarie per il nostro benessere e la nostra salute. L'Italia come il solito è quella lì quella lineetta arancione dormiamo probabilmente sovrastati dallo strapotere delle aziende farmaceutiche non lo so non voglio far polemica la vorrei fare ma non la voglio fare noi abbiamo deciso di stare filosoficamente sull'altra lineetta noi non ci fermiamo al provincialismo e ai mercanti di farmaci abbiamo deciso di fare anche noi sperimentazione e ricerca siamo in quella linea lì dal 2012 2013 ricerca a manetta sulla curcumina e la curcumina ci ha dato risultati stupendi ma Food and Drust Administration se torniamo alla slide precedente ci dice guarda che di tutta la curcumina che c'è sul mercato il 90% deriva dal petrolio è fasulla un 10% è naturale ma è a bassissima biodisponibilità cioè ne introduco un grammo e ne assorbo 30 mg costa tantissimo quindi problemi di costo e di efficacia noi abbiamo una curcumina ad alta biodisponibilità che è tra le 7 e le 10 volte più biodisponibile di una curcumina di ottima qualità con il pepe nero che veniva utilizzata proprio per aumentarne la biodisponibilità oggi in collaborazione con l'azienda chimico farmaceutica di Piacenza riusciamo ad avere una curcumina certificata dalle 7 alle 10 volte superiore come biodisponibilità sa cosa significa? che una prevenzione efficace antitumorale antidegenerativa antinfiammatoria che richiedeva 3 grammi di assunzione al giorno oggi mi consente gli stessi risultati con la punta di un cucchiaino di caffè quindi questa biodisponibilità questa biodisponibilità dicevo è garantita dalle tecniche estrative che vengono utilizzate tecniche estrative e tecniche di trasformazione di polverizzazione poi noi la introduciamo nel miele perché ne aumenta di molto la praticità e la gradevolezza e la gradevolezza nell'assunzione perché se no la curcumina è pesantina bocca ha un effetto tipo caco acerbo ma Gian Paolo cosa risponde a quei telespettatori che ci hanno chiamato sono stati anche più di uno che hanno detto vabbè ma io comunque utilizzo in cucina la curcuma tutti i giorni che fanno benissimo ma c'è una differenza la curcuma adesso come possiamo allora la curcuma è la pianta questa vedete sta radice solo una parte della curcuma solo una parte il rizoma è ricco di curcuminoidi dal rizoma noi dobbiamo togliere la curcumina ricca di curcuminoidi quindi con una titolazione superiore al 90% noi andiamo oltre il 95% in curcuminoidi cosa significa? che sarebbe come se io dovessi assumere un seme di limone e per assumere questo seme di limone io me ne mangiassi 50 di limoni sperando di trovare il seme quello giusto bene la curcuma va bene come base ma non possiamo pretendere dalla curcuma quelle azioni terapeutiche o preventive forti certe che ho con la curcumina che è il concentrato estremo calcoli che da un chilo di curcuma forse riesco ad ottenere qualche centimilligrammo di curcumina e io ho bisogno di curcumina se voglio agire sul DNA cellulare se voglio agire come antinfiammatorio se voglio agire come prevenzione nelle malattie degenerative della prostata e di altre aree e di altri distretti del mio organismo quindi siamo quasi in chiusura brevemente le chiedo usa redberry abbinata a curcumina per fermare il tempo ci sono degli effetti collaterali ci sono alcune tipologie di persone che per varie magari malattie patologie non possono assumere quotidianamente queste due preparate alimentari oppure liberamente lo possono fare due attenzioni due attenzioni uno qualsiasi patologia va benissimo utilizzare questa roba qua fuori di dubbio perché è un contrasto all'evoluzione di qualsiasi patologia un'azione antinfiammatoria e antidegenerativa e un'azione antiossidante capiamo tutti che è la prima arma e forse la più forte se sono in terapia scoagulante con anticoagulanti forti come il cumadi è meglio un briciolo di attenzione cioè non superare la compressa al giorno e non superare una dose al giorno di curcumina dopo cena o una chiara conclamata intolleranza o alla curcumina o al mirtillo lì è talmente raro è molto raro chiaramente io ricordo che questi preparati alimentari non devono assolutamente essere considerati dei sostitutivi a quelle che sono le terapie farmacologiche che magari alcune persone stanno guai a Dio se questo dovesse essere però sul sistema nervoso sull'ansia sulla depressione la curcumina è una cosa fantastica sarà poi il medico a ridurvi i farmaci vedendo i risultati certo allora dicevamo che avete ridotto una serie di prodotti perché usa redberry e curcumina insieme già sono dei potenti preparati alimentari che contribuiscono così a fermare il tempo poi però avete pensato anche ad altri due problemi di cui magari non si sente parlare molto in particolare di uno ma in effetti esiste che è quello della sindrome delle gambe senza riposo quindi avete creato il vero gel allora il vero gel nasce come antidolorifico locale è un linitivo locale moltissime persone affette da gambe senza riposo in fase iniziale ci hanno detto oh io ho visto i sintomi completamente rimessi sono scomparsi i sintomi quindi merita di essere provato assolutamente e poi abbiamo il mix di erbe invece lì proprio tre secondi quando ho stipsi perché c'è l'intestino che si muove in maniera pigra non è un lassativo è un mix di erbe che ridà motilità all'intestino riportando la regolarità senza dare nessun tipo di dipendenza né dipendenza né effetto collaterale due o tre giorni quando ho trovato la regolarità rimetto via il boccettino se fra un mese torno ad avere problemi riprendo per due o tre giorni la sera è una compressa benissimo Gian Paolo vediamo dunque i suoi riferimenti per chi appunto volesse contattarla abbiamo Erbe Medicali il telefono è 03070 60447 whatsapp 391 1290 112 www.erbemedicali.it il sito e dalleonde at gmail.com la mail alla quale potete rivolgere le domande che riterrete utili benissimo Gian Paolo la ringrazio per essere stato con noi alla prossima allora grazie a voi arrivederci buona serata grazie a tutti grazie a tutti